Allora, quello che ci servirà per realizzare il nostro copriasse, che sia quello piccolo per stirare le maniche o il grande che utilizziamo per stirare qualsiasi capo in casa, è praticamente del cotone, 100% mi raccomando non misto cotone perché il copriasse che andremo a utilizzare verrà sempre a contatto con alte temperature o comunque vi capiterà di stirare del cotone e quello si stirà ad alte temperature e non basti, quindi mi raccomando il poliestere non reagisce bene alle alte temperature, quindi solo 100% cotone. Mentre, per quanto riguarda l'imbottitura, io vi consiglio di acquistare questa appunto sempre di giurata su di delle meraviglie, vi lascerò il link qui sotto perché non ricordo più il codice e il nome di questo stabilizzatore, comunque mi sembra l'unico che lei abbia che vada bene appunto per realizzare anche ad esempio delle presine, quindi resiste al calore ed è perfetto. Poi quello che vi servirà è o un cordino o un elastichino, questo se non mi sbaglio è largo 5 mm e il cordino ha lo stesso diametro, forse 4 anche, è leggermente più piccolo. Poi ovviamente vi servirà o una spila d'avalia o un infila nastri perché andrà inserito nella canalina. Io non credo che andrò ad utilizzare loro, ho solo recuperato il cordino da un vecchio progetto e vediamo un attimino se andrò ad utilizzare poi il cordino o l'elastico. Credo l'elastico perché il cordino mi sa che è un po' corto, ma lo vedrete più avanti nel tutorial. Vi mostrerò come realizzare il cattamodello e tutto il processo con questo piccolo, quindi con lo stiramaniche, ma si fa la stessa ed antica cosa anche per il copriasse normale. Io andrò ad utilizzare loro due, mentre questo lo terrò da parte insieme all'altra imbattitura per un altro progetto di cucito creativo in cui realizzeremo un altro strumento da stiro molto bello e semplicissimo da realizzare. Nelle prossime settimane se riuscirò già a realizzare il video tutorial lo posterò, altrimenti per giugno uscirà anche lui. Ma ora iniziamo. Un attimo da parte loro, prendo lui, questa strisciolina di tessuto, se non mi sbaglio è altra 30 centimetri, più che sufficiente per quanto riguarda la realizzazione dello stiramanica. Quello che vi conviene di fare è appunto appoggiare in questo modo, centrate più o meno la stampa, quindi mettete dritto in orizzontale ma posizionatelo bene appunto sulla stampa, in questo modo non vi verrà una fantasia storta, mi raccomando, fate attenzione anche a queste piccolissime cose. Dopodiché prendete un gessetto o un pennarello evanescente e segnate tutto il perimetro dell'asse da stiro o del dello stiramaniche. Vedete proprio come sto facendo io. E voilà, ecco qua. Quindi questa è la forma del nostro, o meglio del mio, copriasse e ora quello che faccio è prendere il righello. Ora a questa forma del perimetro della vostra asse, aggiungete 4 centimetri o 5. Se invece realizzate il copriasse, quello grande, quindi il classico asse da stiro, aggiungete 6 centimetri, ok? In più. Quindi ora andrò ad aggiungerne 4, stiro. Sarà praticamente il tessuto che andrà a ricoprire il mio stiramaniche. Ci siamo? Ora quello che dobbiamo fare è tagliare la nostra imbottitura. Allora, io vi consiglio di averne almeno 2 o 3 strati. 3 sarebbe l'ideale. Infatti io quello che faccio ora è piegare in 1 e 2. Così. Così taglio una sola volta. Poi quello che faccio è riposizionare il mio stiramaniche sopra e segno il suo perimetro. Tagliate. Quindi tagliate al netto, ok? Perché tanto questa andrà appoggiata sul metallo dell'asse. Quello che dovete fare a questo punto è o imbastire tutti e tre gli strati insieme, oppure andate a macchina e con un punto lungo tipo farei lunghezza punto 3, andrei a cucire a 1 centimetro o 0,7, come siete più comodi voi a cuocere a macchina, tutto il perimetro. Questa cucitura ci servirà semplicemente per bloccare i tre strati insieme. Niente di più, ok? Poi, un'altra cosa che potete andare a fare a questo punto è sorfilare o rifinire con un punto zigzag tutto il contorno, ok, del nostro tessuto esterno. Quindi io ora quello che faccio è sorfilare il perimetro del tessuto esterno e bloccare i tre strati insieme. Ok, io ho unito i tre strati insieme, vedete? Sono uniti ora e lo metto da parte per il momento e ho anche sorfilato con quattro fili perché avevo già la macchina infilata in questo modo, quindi se voi invece avete tre fili va benissimo lo stesso, ci serve solo per non far sfilacciare il tessuto. Quindi, quello che dobbiamo fare ora è stirare, andare quindi al ferro da stiro e stirare verso il rovescio del capo un centimetro. Questa sarà praticamente la nostra canalina, ok? Quindi andiamo a stirare un centimetro e se volete aiutarvi nel prestiro, quello che dovete fare è fare due linee di filza, iniziare più o meno qui, ok? E finire qui e fate due linee, una distante dall'altra di 0,5 e vicino al vostro punto di sorfilatura. Quindi dal punto di sorfilatura o zigzag vi spostate di 0,5 e fate la prima linea di filza e a 0,5 fate la seconda, ok? Lo fate sia in questa zona curva qui che più o meno in questa zona curva da qui a qui. Io ora andrò a fare anch'io le mie due filze, dopodiché andrò a prestirare il centimetro. Le linee di filza servono a far sì che si crei un'arricciatura omogenea e più corretta nelle due zone curve, quindi quando andrete a ripiegare verso il rovescio il margine si piegherà in automatico e con più facilità, ok? Così non trasportate in giro il tessuto, perché in questa zona qui ci sarà per forza un po' di arricciatura. Quindi ora faccio tutto e poi torno qui e vi mostro. Ecco qui le mie due linee di filza, vedete? Ora quello che faccio è tirare i fili, quindi per arricci un pochino vedete la zona. Ovviamente la filza non è nient'altro che allungare il punto della macchina, io ho usato un lunghezza punto 4, lasciare i fili lunghi, quindi tirare su il filo anche della bobina che sta sotto, partire senza affrancare, ok? E creare queste due linee, quindi avete i fili lunghi inizio e fine e non c'è affrancatura, però vedete come già si forma la rotondità? Questo vi aiuta nello stiro. Io adesso magari le sto anche tirando troppo, ma tanto poi mi regolo allo stiro e voi sapete che dovete soltanto prestirare un centimetro, ok? Sul rovescio. Quindi praticamente non facciamo nient'altro che aiutarla, invitarla un pochino questa curva, ok? Ora andate allo stiro e prestirate un centimetro come me. Ecco qua, questo è il mio margine prestirato, come potete vedere dove c'è la filza resta un pochettino arricciato così il margine, ok? Anche se è prestirato. Ora, una cosa molto importante da fare è andare a bloccare lui, quindi bloccare lui a 0,8. Sapete che abbiamo un centimetro di margine di cucitura, quindi a 0,8 facciamo la nostra impunturina chiudendo la canalina. Lasciate un'apertura di 2 centimetri, all'incirca, andrebbe bene anche un centimetro e mezzo. Io lascerò la mia apertura qui nella parte finale, ok? Quindi facciamo finta che questa zona qui resta aperta, quindi vuol dire che inizierò a cucire qui affrancando all'inizio, ovviamente cucio sopra il margine a 0,8, quindi da qui a 0,8. Andrò a cucire praticamente sopra il mio punto di sorfilatura. Farò tutto, 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 tutto il giro finché non arriverò qui, ok? E affrancherò, quindi lascio un'apertura qui, di al massimo 2 centimetri. Voilà! Come potete vedere io ho fatto tutta l'impunturina, ho lasciato una piccola apertura qui, vedete tutto chiuso dietro, quindi ora prendo il mio nastrino, inizio con lui e l'infilanastri e inserisco all'interno il mio lastichino. Quindi ho preso la mia spila da palia e la faccio scorrere all'interno della mia apertura. voilà! Siamo arrivati al fine, quindi vedete, essendo elastico il filo all'interno, o meglio il nastrino, sarà molto più facile poi posizionarlo sullo stiramaniche. Quindi ora quello che faccio è questo, rimuovere la spila da palia e bloccare l'elastichino per ora in questo modo e voilà! Così cerco di ridistribuire bene l'elastico all'interno della canalina. Voilà! E ora prendo lo stiramaniche, rumori sinistri, posiziono sopra la nostra imbottitura e sopra la nostra imbottitura andrò a posizionare lui. Quindi parte più larga è lui. Voilà! E il vostro stiramaniche sarà pronto. Ok? Quindi io quello che faccio è semplicemente fare un nodino e lasciare l'elastico non rifinito e basta. Quindi vedete, questo è il risultato finale. E nulla! Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!